Lo scorso mercoledì 21 novembre la Polizia di Stato di Foggia ha eseguito il decreto di fermo di indiziato di delitto emesso dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari nei confronti di Giuseppe Albanese, di 38 anni, affiliato al cartello mafioso Moretti-Pellegrino Lanza, indagato per omicidio, detenzione e porto illegale di armi comuni da sparo. L'uomo è gravemente indiziato in concorso con un altro soggetto dell'omicidio di mafia di Rocco Dedda, quest'ultimo legato alla contrapposta compagine dei sinesi Francavilla, freddato il 23 gennaio 2016 con diversi colpi d'arma da fuoco all'interno della sua abitazione nel quartiere Candelaro, ove si trovava insieme alla convivente dal figlio di soli 4 anni. Il grave fatto di sangue considerata la storia criminale della vittima è apparso sin da subito riconducibile alla cruenta guerra di mafia esplosa a Foggia dal settembre 2015 e che ha visto contrapposte le famiglie Moretti-Pellegrino Lanza e sinesi Francavilla e nel cui ambito sono stati registrati diversi tentativi di omicidio. Le indagini realizzate sulla base di aggiornatissime e sofisticate analisi tecniche hanno consentito di evidenziare le responsabilità di Albanese come uno dei due killer responsabili dell'omicidio. In pratica sono state confrontate conversazioni e messaggi telefonici, tabulati, dati di posizionamento, immagini di telecamere mettendo in relazione fra loro migliaia di dati che, opportunatamente ricomposti, hanno dato un quadro chiaro delle fasi esecutive del delitto e di far luce sulle dinamiche criminali e sugli assetti interni delle due compagini. L'inchiesta, peraltro, è stata corroborata in una seconda fase anche dalle dichiarazioni di due collaboratori di giustizia che hanno consolidato il grave quadro indiziario nei suoi confronti. Il fermo di Albanese è stato materialmente eseguito subito dopo il funerale di Rodolfo Bruno, esponente di rilievo del clan Moretti-Pellegrino Lanza, ucciso come noto la scorsa settimana al cui rito albanese ha partecipato. Il fermo emesso dalla DDA di Bari è stato convalidato dal GIP di Foggia che ha emesso il 26 novembre ordinanza di custodia cautelare in carcere.